sempre tante novità qua da bugere questi ragazzi sono istancabili uno strumento innovativo legno di olivo e con tante novità dal punto di vista tecnologico sia delle voci ma proprio della costruttività è uno strumento fantastico risponde immediatamente e adesso me lo vado a suonare un po vediamo cosa mi esce poi no 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 A presto. A presto.